E' l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise, buonasera cari amici telespettatori e buon ascolto, apriamo anche quest'ultima edizione con la pagina politica, chiederemo a Toma di revocare in autotutela il POS adottato. Sarà questa la posizione del Partito Democratico nel corso del Consiglio straordinario del prossimo 27 settembre. Dal PD si dicono pronti anche a votare un'eventuale mozione di sfiducia a Toma. Ci dice tutto in apertura Pasquale Di Bello. Grandi manovre in vista del prossimo Consiglio regionale monotematico in programma il 27 settembre. L'Aula in quella circostanza sarà chiamata a discutere del Piano Operativo Sanitario 2019-2021 adottato dal Commissario ad Acta Toma e oggetto di una stringata comunicazione che ha fatto saltare in piedi le opposizioni PD e Movimento 5 Stelle. La posizione dei Dem la esprime direttamente il segretario regionale del partito Vittorino Facciolla che anticipa la richiesta che verrà formulata in Aula, quella di una revoca in autotutela del documento che ridisegna la sanità molisana. Noi lo abbiamo già espresso da subito in Consiglio regionale, abbiamo evidenziato l'esigenza di ripartire dall'ascolto dei cittadini, degli stakeholder, dei controinteressati in generale, alle organizzazioni professionali, di quelle datoriali, di quelle sindacali. Un piano operativo regionale non può essere approvato come il Presidente ci ha fatto credere in 35 giorni. Insomma, lo spirito di Gonzales della politica molisana Donato Toma dovrà invece spiegare perché non lo ha condiviso. E l'assenza di condivisione porta con sé una serie di errori evidenti nella scrittura del programma che non soddisfa nessuno nella parte sua di cornice. Né è lecito attendersi che nei decreti attuativi dello stesso a Valle, appunto, da approvarsi a Valle ci si possa trovare la soluzione giusta per consentire ai cittadini molisani di poter beneficiare di un'offerta sanitaria adeguata. Per questa ragione il 27, prossimo 21, quindi il prossimo Consiglio regionale, chiederemo al Presidente Toma di revocare in via di autotutela il provvedimento adottato, quindi il piano adottato e ripartire come si è soliti fare quando si vuole costruire edificare una casa, dalle fondamenta. Oltre alle opposizioni canoniche PD e 5 Stelle, ne esiste anche una interna. Non è un mistero che il centrodestra viva una stagione di aspre divisioni. Portabandiera dell'opposizione interna è l'ex governatore Michele Iorio, il quale si è spinto molto avanti con la sua critica sino ad ipotizzare una mozione di sfiducia a carico di Toma. Facciolla dal canto suo dichiara il PD pronto a votarla. Michele Iorio poteva sottoscrivere la mozione di sfiducia qualche mese or sono quando è stata rigettata anche grazie al suo voto, però non è mai troppo tardi per essere fulminati sulla via di Damasco. Quindi se ha modificato la sua posizione politica al punto tale da pensare che sia giunto il momento di staccare la spina a questo governo regionale noi saremo ben lieti di aiutarlo in questa sua operazione. Ma al di là di questo mi sembra che la spaccatura nel centro-destra sia assolutamente evidente, ne conseguono anche delle ulteriori evidenze che sono la divisione anche delle liste sui Cerni, insomma hanno fatto delle scelte diverse, hanno diviso la coalizione. E alle dichiarazioni del segretario del PD Facciolla ha replicato a stretto giro l'ex governatore Michele Iorio. Io la fiducia l'ho sottoscritta e votata. Ascoltiamo cosa ha detto ancora il microfono di Pasquale Di Bello. Scintille tra il segretario regionale del PD Vittorino Facciolla e l'ex governatore e attuale consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Iorio. Motivo della contesa la possibile emozione di sfiducia al presidente della regione Donato Toma, ipotizzata dallo stesso Iorio per i fatti che riguardano la sanità. Facciolla, tornando alla primavera scorsa, ha rimproverato a Iorio di non essere andato sino in fondo quando la sfiducia venne proposta. Iorio replica, Facciolla ricorda male. Io la mozione l'ho firmata e votata. Lui mi pare che c'era, non so se se n'è andato all'ultimo momento, ma in quella mozione di sfiducia io ho posto la mia firma e poi ho anche votato, quindi evidentemente ricorda male l'episodio e non se l'è sentita di ammettere una cosa che forse per lui non è proprio piacevole. Iorio poi torna sull'argomento centrale del dibattito politico in corso, l'adozione da parte del commissario Toma del piano operativo sanitario 2019-2021 senza il coinvolgimento del Consiglio regionale. Anche su questo Iorio lancia una stoccata a Facciolla, il peggior posto in assoluto è stato quello confezionato da Frattura e all'epoca, dice Sornione l'ex governatore, Facciolla era il suo vice. Devo dire invece che la conversione di Damasco l'ha avuta lui perché sostanzialmente il piano che lui ha approvato quando era vicepresidente della Giunta è uno dei peggiori piani che ha avuto la regione Molise, per cui Toma non ha migliorato, anzi forse ha anche peggiorato quello, ma la distruzione della medicina pubblica in Molise è cominciata con quel piano, la chiusura degli ospedali di Venafro e Larino erano in quel piano, il piano appunto dove Facciolla era vicepresidente. Quindi io credo che non debba fare nessuna conversione sulla strada di Damasco, sono convinto che la sanità pubblica molisana va organizzata in maniera diversa, mi dispiace che Toma ha tradito tutte le aspettative che il centrodestra gli aveva affidato e ha firmato un piano che letteralmente è una pagina scura nel Molise che bisogna cancellare. Ecco facciamo un passo avanti e andiamo a lunedì prossimo perché è calendarizzato un consiglio monotematico proprio sul post 2019-2021, lei cosa dirà in quella sede? Dirò che con quel piano non si va da nessuna parte, è inaccettabile e tutte le motivazioni che il presidente Toma sta dando sulla possibilità di modificarlo diventano veramente difficili da realizzare se si parte da quelle premesse. Per cui bisognerebbe revocare quell'atto, confrontarsi in consiglio regionale, cercare di modificarlo nei punti essenziali naturalmente e su quei punti chiedere il confronto con il governo. Perché l'altra cosa strana in questo momento, ma è sempre stato così nel Molise, che arrivano i ministri, arrivano i personaggi più importanti della politica nazionale, questo è avvenuto sia in campagna elettorale delle regionali che in questa e in altri momenti, si annunciano grandi cose per questa regione ma poi si tiene in piedi un debito che soffoca la sanità, non solo, ma si prevedono soluzioni che addirittura la distruggono. Questo il governo nazionale qualcosa la dovrebbe dire. E veniamo ora alla campagna elettorale di Isernia, sono molti i big della politica che in queste ore fanno tappa nel capoluogo, tra loro anche il ministro Luigi Di Maio a sostegno del candidato alla carica di sindaco Piero Castrataro. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Si accende la campagna elettorale a Isernia con l'arrivo pressoché quotidiano dei leader nazionali dei partiti. Ieri sera è stata la volta di Luigi Di Maio, ministro degli esteri e garante del Movimento 5 Stelle. Arrivato nel capoluogo Pentro a sostenere Piero Castrataro, candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra. E Di Maio ha avuto parole di incoraggiamento per Castrataro, definendolo una persona adatta a gestire i fondi del piano di lancio europeo anche grazie alle sue competenze professionali. Io credo che Isernia sarà una delle città più importanti del nostro paese dove si spenderanno i 230 miliardi di euro del recovery fund. Abbiamo vinto una trattativa come Italia un anno fa ai tavoli di Bruxelles. Ci sono circa 230 miliardi di euro da spendere e i sindaci saranno protagonisti di questa capacità di spesa. Credo che avremo tante opportunità per investire in nuove opportunità, nella creazione di nuove opportunità di lavoro. Penso al fatto che dobbiamo digitalizzare tutti i servizi pubblici con quei soldi. Dobbiamo investire di più in strumenti come il Superbonus, che creano più lavoro per l'edilizia, nuovi posti di lavoro. Credo che abbiamo bisogno di sindaci che siano in grado di esercitare questa spesa e di spenderli bene, altrimenti l'Europa non ce ne manda altri. Quindi la mia presenza qui e il sostegno ad una coalizione con un candidato sindaco che è un manager, che è una persona che lavora all'interno di questo comparto, quello delle energie rinnovabili, che sono protagoniste della spesa del recovery fund, è un segnale che vogliamo dare come forza politica a tutta la regione. Lo facciamo in una città dove si sono stati presupposti per un'alleanza, un'alleanza che ricalca il perimetro del governo Conte II e che quindi guarda quell'esperienza di governo nazionale con Giuseppe Conte anche a livello locale. Di Maio ha poi anche parlato della riproposizione dell'esperimento Isernia, che vede alleati PD, 5 Stelle e Sinistra Italiana in genere, anche in altre realtà, non solo locali. Io ho fatto un giro abbastanza importante in queste settimane in tutta Italia per i comuni che vanno al voto. Ci sono territori dove c'erano i presupposti per stare insieme, altri no. Ma questo non vuol dire che l'alleanza non possa essere il futuro da un punto di vista nazionale. Significa soltanto che è un'alleanza che un po' alla volta deve cementarsi. Lei nel 2018 venne qui, trovò una piazza piena, 10.000 persone, per un soffio non prendeste la regione. Questa volta? Guardi, ovviamente adesso non stiamo andando alle regionali, stiamo andando alle comunali che sono un'altra partita del tutto e credo anche che questa volta ci presentiamo ad una città con una coalizione civica e una coalizione di forze politiche, di forze civiche. Quindi è molto più ampio il perimetro che si stringe intorno al nostro candidato sindaco, che sosteniamo e che crediamo possa essere un progetto di città replicabile in tante altre città. Parliamo ora del Covid perché continua il trend favorevole in Molise sul fronte dei contagi. L'ultimo bollettino Asrem infatti segnala un solo positivo di Campobasso sui 368 tamponi processati con tasso di positività allo 0,27. Non si registrano nuovi ricoveri ma 12 guariti. Gli attualmente positivi in regione sono 175, mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 7, di cui 2 in terapia intensiva. Sul fronte della scuola ci sono due classi in DAD a Fornelli, una dell'infanzia e l'altra della scuola primaria, a seguito di alcune positività riscontrate in quel paese. Si tratta di un provvedimento assunto in via precauzionale dall'istituto scolastico in attesa dei tamponi e del tracciamento che sta eseguendo la Asrem. Intanto, a partire da questa mattina, proprio la Asrem ha dato il via alla somministrazione della terza dose del vaccino, che coinvolgerà circa 7.000 soggetti fragili. Coloro che rientrano nella categoria saranno convocati tramite SMS al numero comunicato al momento dell'adesione vaccinale. Le inoculazioni avverranno nei centri vaccinali ospedalieri. La Asrem ha inoltre sottolineato che gli altri centri rimarranno aperti dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, per consentire a coloro che ancora non lo hanno fatto, di sottoporsi al vaccino. Cambiamo argomento. C'è un appello del sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, per scongiurare la chiusura della piscina del paese. L'infrastruttura, costata 4 milioni e mezzo di euro, attivata dal 2012, ha bisogno di un numero di iscritti superiore. Sentiamo Andrea Nasillo. Una struttura all'avanguardia, costata 4 milioni e mezzo di euro, attiva dal 2012. Fiore all'occhiello per la zona, ma la piscina semiolimpionica di San Giuliano di Puglia è a rischio chiusura. Il sindaco Giuseppe Ferrante è preoccupato, si rivolge soprattutto alle comunità vicine. Fare rete in questo momento è decisivo. Lo spopolamento è allarmante, la pandemia ha aggravato la situazione. Dopo la pausa estiva è arrivato il momento di riaprire le porte della piscina, ma servono nuove iscrizioni. La struttura di ultima generazione ha una vasca di 25 metri, garantisce l'attività sportiva anche ai disabili e inoltre è fonte di reddito per ragazzi e famiglie, non solo di San Giuliano. Vuoi un po' lo spopolamento che sta affliggendo le nostre aree, vuoi un po' il Covid che ha rallentato un po' tutto e i numeri sulla nostra piscina sono veramente pochi, sono esigui. Di conseguenza questo vuole essere un appello a frequentare la piscina di San Giuliano di Puglia, soprattutto non solo per i miei concittadini, ma per tutta l'area del cratere. Stiamo parlando di una piscina, una delle più all'avanguardia del Molise, dove addirittura abbiamo un sollevatore per i disabili, che credo, non so se anche qualche altra piscina in Molise sia dotata di tutto ciò, rappresenta anche una fonte di reddito per i giovani non solo di San Giuliano, ma anche per gli altri comuni. Il mio appello è proprio questo, di collaborazione tra le nostre comunità al fine di evitare di scongiurare la chiusura della piscina di San Giuliano di Puglia, ma soprattutto questa rappresenta una buona prassi anche per affrontare altre tematiche, come può essere la sanità, la viabilità, la scuola, in modo da creare una rete e fare in modo che questa zona del Molise non sparisca. Ora la cronaca. Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri hanno inseguito un SUV nella periferia di Termoli. Il conducente dell'auto alla vista della pattuglia per sfuggire al controllo ha imboccato la statale 16 a tutta velocità. L'inseguimento si è concluso a Campomarino, dove il fuggitivo ha abbandonato l'auto in una strada sterrata ed è scappato a piedi facendo perdere le tracce complici il buio e la fitta vegetazione. Il mezzo era stato appena rubato in un quartiere di Termoli. E c'è anche un hacker residente in provincia di Isernia, tra le persone arrestate in una vasta operazione antipirateria informatica della polizia postale coordinata dall'Interpol. Le somme sottratte fraudolentemente venivano investite in attività criminali quali prostituzione e traffico di droga e di armi per un giro di affari stimato in 10 milioni di euro. Sentiamo ancora Enzo Di Gaetano. C'è anche un hacker residente in provincia di Isernia tra le persone arrestate su mandato di cattura europeo grazie ad un'operazione coordinata dall'Interpol che ha smantellato un gruppo criminale italo-spagnolo. L'indagine condotta in Italia dal servizio della polizia postale in collaborazione con gli omologhi del territorio spagnolo ha portato alla cattura e all'arresto di 16 pluri pregiudicati per truffa, frode informatica, ricettazione, stupefacenti e rapina. Si tratta di personalità di spicco del sodalizio criminale residenti sul territorio iberico. Sono stati sequestrati 118 conti correnti bancari utilizzati per il riciclaggio. Contemporaneamente in Italia, a Torino e di Isernia, sono state seguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere in esecuzione di altrettanti mandati di arresto europei emessi dalla magistratura spagnola. L'organizzazione criminale, con base a Tenerife, nelle isole Canarie, avvalendosi di hacker specializzati, sarebbe riuscita ad impossessarsi dei codici dispositivi dell'home banking di vittime in prevalenza italiane, ma anche spagnole, inglesi, tedeschi e irlandesi, disponendo bonifici bancari per migliaia di euro in favore di conti correnti spagnoli intestati a presunti riciclatori, anch'essi di nazionalità italiana, reclutati e residenti in Spagna. Le somme sottratte, come hanno reso noto gli investigatori, venivano in seguito riciclate attraverso l'acquisto di criptovalute o reinvestite in ulteriori attività criminali, quali prostituzione, produzione e traffico di droga, traffico di armi, per un giro di affari stimato in oltre 10 milioni di euro solamente nell'ultimo anno. E ci sono stati momenti di paura a Termoli in un appartamento in via India dove è scoppiato un incendio. Si è temuto il peggio per una famiglia che per fortuna è rimasta illesa. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'abitazione. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Il fisico e ricercatore Domenico Mastro Giuseppe ha analizzato e monitorato una sorgente di acqua sul lungomare nord di Termoli, evidenziando il preoccupante innalzamento del livello del mare. Ha interessato perciò della questione anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che gli ha risposto. Sentiamo ancora Andrea Nasillo. Il livello dei mari si è alzato. A Termoli il dato è lampante. Parola del fisico aquilano Domenico Mastro Giuseppe, ricercatore da decenni, ha studiato questo fenomeno analizzando e monitorando la sorgente di acqua dolce sul lungomare nord di Termoli. L'esperto, che in passato ha vissuto e lavorato nella città adriatica, parla anche di rallentamento della terra, di assestamento della crosta terrestre e di restringimento della fascia equatoriale di 3 metri. Ho avuto io la possibilità di rilevare personalmente che c'è stato un innalzamento del livello del mare di circa 20 centimetri al netto delle maree, perché da una quindicina d'anni sorveglio una risorgiva di acqua dolce che sta sulla spiaggia a nord del Grattacielo che io avevo proposto più volte all'amministrazione di valorizzare realizzandoci un fontanile. Sarebbe stato forse l'unico in tutta la costa adriatica. Quindi che ci sia effettivamente questo sollevamento che io ho rilevato perché quella risorgiva che prima stava sul bagnasciuga adesso è sommersa da mediamente 20-30 centimetri di acqua, è evidente che il livello del mare si è alzato. Mastro Giuseppe non ha dubbi a rischio anche il porto di Termoli. Una rete di monitoraggio in continuità del livello del mare sarebbe estremamente importante perché 20 centimetri in un anno, questo è successo qui a Termoli, rilevati personalmente da me, significa che nel giro di 4-5 anni i porti dell'Adriatico e vi compreso quello di Termolo saranno inagibili. L'esperto ha illustrato la problematica anche ad Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, le ha scritto una lettera e ha avuto riscontro. Mi ha risposto e mi ha dato la possibilità di mettere in contatto con i responsabili dell'Agenzia Apre, l'Agenzia per la ricerca in Europa, per eventualmente finanziare un progetto di ricerca in questo campo e io di questo vorrei parlare appunto con la direttrice del Dipartimento Ambiente e Territorio dell'Università del Molise, la professoressa Gabriella Scippa, che già mi ha dato la disponibilità per un incontro, per eventualmente avviare un progetto di ricerca finanziato appunto dall'Europa, dall'Apre e per realizzare una rete di monitoraggio continuo del livello dei mari sarebbe estremamente importante. A Campobasso oggi è stato presentato il progetto Mamma Lingua in viaggio con il Biblio Hub, un'iniziativa che si svolgerà a partire dal 23 settembre fino al 1 ottobre nel suggestivo scenario di Villa De Capoa. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. Farà tappa a Campobasso dal 23 settembre fino al 1 ottobre la biblioteca mobile dell'Associazione Italiana Bibliotechi in occasione del progetto Mamma Lingua in viaggio con il Biblio Hub. L'iniziativa si svolgerà all'interno di Villa De Capoa e rientra nell'ambito del cartellone degli eventi organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Campobasso settembre in città. In mattinata la conferenza stampa di presentazione. Le finalità sono legate al concetto di lingua madre, infatti si chiama Mamma Lingua perché nasce proprio dalla volontà di rafforzare nei bambini il legame con la propria lingua madre che significa per i bambini italiani un approccio diverso alla propria lingua ma anche un'attenzione ai bambini stranieri che vivono sul nostro territorio. È un progetto dell'AIB promosso da Nati per Leggere che vedrà Villa De Capoa protagonista con una serie di appuntamenti a partire dal 23. Come è nata l'idea di aderire a questo progetto? È un progetto del Centro per la lettura. Il comune di Campobasso tra l'altro è già partner del centro perché abbiamo ottenuto la qualifica di città che legge e rafforza anche il patto della lettura stipulato con tante associazioni tra cui anche Nati per Leggere ed altre. Un luogo importantissimo è anche quello dove ci troviamo quindi la nostra bibliomediateca che è un po' il fulcro di tutte le iniziative che riguardano la lettura come educazione e promozione della stessa. Il progetto Nati per Leggere ha aderito sicuramente a questo progetto fin dal suo nascere perché l'associazione Nati per Leggere è sempre stata attenta alle letture, a portare le letture nelle famiglie fin dalla più tenera età perché tutti i bambini hanno bisogno di storie e le storie sono una casa sicura ma le storie sono anche un'ancora per i bambini che arrivano da fuori che li ancora la loro tradizione, le storie sono anche una zattera che permette a questi bambini di sentirsi più sicuri e le storie sono un ponte che li mantiene unite alle loro terre di origine. Questi bambini arrivano in Italia e possono, rischiano di perdere la loro lingua madre, la lingua di uno dei due genitori o di entrambi i genitori perché non hanno i nonni, non hanno gli zii, non hanno un ambiente dove questa lingua venga parlata. Questi nonni che possono raccontare storie non potranno recuperare nemmeno negli asili, nelle scuole se queste non sono sensibilizzate al problema, specialmente se non abbiamo libri per leggere storie, per raccontare storie a questi bambini nella loro lingua madre. E quindi questo progetto nasce proprio per questo, per dare questa grande opportunità a questi bambini e mantenere viva la loro cultura. E ora ci occupiamo di spettacoli e della rassegna esami di riparazione. È in corso fino a fine mese al convitto Mario Pagano di Campobasso. Nel cartellone anche il violinista Luca Ciarla che ha presentato il suo progetto Solo Orchestra. Il servizio è di Enzo Luongo. Luca Ciarla è un artista molisano che con il suo violino ha conquistato il mondo. Una carriera fatta di riconoscimenti internazionali e di tanti concerti ha suonato in 70 paesi diversi. Alla rassegna esami di riparazione promossa dal Teatro del Loto e in corso al convitto Mario Pagano di Campobasso in una location, il cortile dello storico edificio, dal fascino unico e ideale per ospitare spettacoli, Ciarla ha portato il suo progetto Solo Orchestra. Attraverso la Loop Machine con il suo violino riesce a riprodurre le armonizzazioni e le partiture di un'intera orchestra. Tu ti registri continuamente e quindi rivedi subito quello che hai suonato. Lì per gioco sono nati arrangiamenti, brani scritti per venire nel loop. Io cerco di, per quanto difficile a volte, però cerco di creare musiche che non potrei fare in gruppo, cioè non è sostitutivo di un collega, ecco. Nel concerto emozioni a ripetizione, tra composizioni originali del musicista e brani celebri, proposti in una veste totalmente inedita. Tra questi brani anche Bella Ciao, con Ciarla che racconta al pubblico del calore che riceve per questa esecuzione in ogni angolo del pianeta. Quando torna nella sua regione per il violinista molisano l'emozione è sempre particolare. Tornare è sempre emozionante, suonare al Termoli Jazz Festival alcuni mesi fa è stato incredibilmente toccante per me, ho suonato poche centinaia di metri da casa mia, quindi potevo vedere il balcone dei miei, quindi potrei immaginare, insomma. Nel progetto Solo Orchestra emerge il grande lavoro di ricerca svolto da Ciarla, che esperimenta e abbraccia sonorità di generi diversi, dalla world music al jazz alla classica. Nel finale c'è anche un'originale rilettura di una delle più celebri canzoni di Paolo Conte. Per il violinista molisano dopo un'estate con molti concerti, ora dopo lo stop per la pandemia è arrivato anche il momento di tornare a girare il mondo. Dovrei recuperare alcune date perché come potrei immaginare, insomma, per me è stato uno dei periodi più strani possibili. A novembre vado a Dubai, all'Opera di Dubai, era una data che ci tenevo tì. Non ho mai suonato all'Opera, lo sono suonato spesso a Dubai ma mai all'Opera. Dovrei fermarmi ad Amman, Oslo a novembre, poi Roma, insomma, varie tappe. Dovrei andare a Bangkok, tornare a Bangkok, è just bestia. E adesso andiamo a Monte Roduni dove si è svolto un grande evento musicale per celebrare gli 80 anni del maestro, direttore d'orchestra Nicola Ansalik Samale. Sentiamo Barbara Fino. Un avvenimento originale ed unico si è tenuto a Monte Roduni, in piazza Marconi, con un concerto celebrativo in cui allievi ed appassionati di musica hanno omaggiato il maestro Nicola Ansalik Samale in occasione dei suoi 80 anni. Prodigio della musica e compositore creativo, il maestro, ospite in provincia di Isernia, affianca Riccardo Muti tra gli ottantenni in piena attività. Nella piazzetta gremita di gente, Samale ha diretto la gran partita di Wolfgang Amedeus Mozart, un brano per sollifiati per un concerto di dimensioni cameristiche, con flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni e corni di bassetto. È stata una sorpresa, mio cugino ha organizzato tutto quanto, a mia insaputa tutta sua amata, sapeva che io amavo molto questa composizione, lui la ama altrettanto e quindi per l'occasione abbiamo montato questo performance che non è uno scherzo, sono 13-14 musicisti, anche molto difficili da reperire, che ci sono strumenti rari, avete sentito, che non sono di uso frequente, però insomma. Per il suo compleanno ha scelto Mozart, come mai? Mozart è il più grande musicista che sia mai esistito, tutto sommato, non c'è nessuno che lo supererà. Era solo un bambino di 10 anni, nell'immediatezza del secondo dopoguerra, quando ascoltando una banda musicale in una piccola località del Modenese, Samale decise di diventare musicista. Accanto a che sentì una banda suonare l'ouverture, incredibile, non ci si crede, dall'Italiano in Algeria, e rimasi stupefatto. Una serata musicale dedicata al direttore d'orchestra, organizzata dal maestro fagottista Paolo Zampogna, ideatore, coordinatore e direttore artistico dell'intera manifestazione. Brani lirici di Mozart, Verdi e Puccini, cantati da eccellenti interpreti come Antonella Inno, Stefania Noviello e Vincenzo Sanso, diretti da Maria Rosaria Massaro, in arrangiamenti e riduzioni strumentali dello stesso Samale. Anime alla ricerca di Dio con San Pio da Pietrelcina è il libro nato dal diario personale di Brunella Pia Pavone, curato da Vittoria Todisco e ispirato a padre Pio. Il lavoro, realizzato insieme al gruppo di preghiera del Santo Rosario di Campobasso, raccoglie le esperienze di fedeli che grazie alla preghiera hanno trovato forza e risposte alle proprie sofferenze. La presentazione è prevista domani alle 19 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova di Campobasso. Termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise. Buonanotte.